Prepariamo insieme uno sformato ai tre cavoli buonissimo. Prendiamo il romanesco, il broccolo e il cavolfiore e andiamo a tirar fuori da ognuno 400 g di cimette che andremo a lessare. Ecco pronte le nostre cimette lessate. Ne prendiamo alcune e le teniamo da parte per guarnire sopra il nostro sformato. Intanto possiamo foderare uno stampo a cerniera con carta da forno bagnata e strizzata. Ora andremo a disporre sul fondo le nostre cimette alternando i colori. Ora mettiamo da parte lo stampo e prendiamo un mixer. La versiamo dentro le cimette rimaste. Ora aggiungiamo 5 uova, 200 ml di panna fresca e 40 g di parmigiano. Andiamo a frullare. Ora aggiungiamo noce moscata, pepe e sale. Riprendiamo il nostro stampo e andiamo a versare sopra il composto. Lo battiamo un pochino. Pronto per essere infornato a 180 gradi per 50 minuti. Il nostro sformato ai tre cavoli ha cotto. L'ho lasciato raffreddare. Adesso lo andiamo ad impiantare. Ora lo andiamo a decorare sopra con le cimette che avevamo tenuto da parte. Avevo messo via anche delle foglie. Davvero spettacolare. E questo è come si presenta dentro. Uno sformato buonissimo. Guarda la ricetta, salva il video e alla prossima. Buon appetito!